è vero sei tutto vero ma sono preoccupato ormai con le scarpe me le sogno quando torno signore mia moglie sta per partorire mandale i soldi saeed un uomo senza soldi non vale niente ormai con le scarpe me le sogno quando torno al lavoro a casa ne sogno anche occhi aperti cattiva merce però senza quelle scarpe guarda ismail quelle scarpe sono per gente che guadagna molti soldi non come te che guadagni giusto per dire attento saeed mi sembri mia madre vedrai saeed verrà il giorno che mi darai ragione se lo vuoi sapere io la odio questa casa blanca odio casa blanca sai cos'è il cavallo per un cavaliere un cavaliere non può vivere senza cavallo che torno a che torno è chiaro vengi non è no è sono Grazie.